Franco Iannuzio, se il buongiorno si vede dalla prima trasferta, quest'anno farete molti chilometri? Già abbiamo iniziato bene, perché dobbiamo fare questa partita in casa, purtroppo quello che è successo è che dobbiamo andare a fare bastanti, che sono 7-800 km, quindi si è andato in ritorno a 1500 km, quindi iniziamo con questa grossa trasferta. A che ora si parte e quanti sarete? Noi partiremo domani mattina intorno alle 8.30, col pulma dovremmo essere una quarantina, poi ci sono macchine, cacche macchine private, cacche pulmanine che sono riuscite a farle in provincia, quindi penso che una cinquantina di tifosi di Avelino che prendiamo da qua, poi sopra troveremo sicuramente altri tifosi che sicuramente si aggregeranno a noi. La prospettiva, ne parliamo già, potrebbe essere quella di un Ferragosta a Genova? Eh, quindi il 15, il 15 alle ore 21 so che si fa la partita col Genova, quindi anche quest'anno sicuramente ci faremo il Ferragosto fuori, abbiamo fatto gli altri anni, mi ricordo 3-4 anni fa a Varese, l'anno scorso però giocammo il 14 a Palermo e sono convinti che anche quest'anno saremo il 15 agosto, il Ferragosto, è piaciuto di stare con le nostre famiglie, saremo accanto all'Avellino a Genova. Come abbonamenti si viaggia a fatica verso le 3.000 sottoscrizioni, un dato non entusiasmante? È un dato che devo dire in realtà mi dispiace tanto perché, ripeto, la gente doveva dimostrare il proprio attaccamento a questa squadra, a questi colori facendo l'abbonamento. Ripeto, i presidenti, qualcuno, il presidente parla troppo, ma indubbiamente poi i presidenti passano, passano i presidenti, passano gli allenatori, passano i giocatori. Noi restiamo, noi dovevamo fare per l'amore della maglia, dell'Avellino, dovevamo fare gli abbonamenti, dovevamo tutti quanti sottoscrivere gli abbonamenti, dovevamo dimostrare il nostro attaccamento con gli abbonamenti, dovevamo raggiungere 5.000 abbonamenti. Ripeto, mi dispiace che i diffusi in questo momento non sono stati molto legati all'Avellino, non sono stati molto legati a questi colori. Ripeto, si parla tanto su Facebook, io qua, io là, però quando bisogna fare qualcosa per l'Avellino vedo che siamo sempre in pochi. Siamo alla vigilia di una nuova stagione per Franco Iannuzzi, che anno è? Sono parecchi anni che seguo l'Avellino, ho 58 anni, io ricordo ancora 6-7 anni, stavo a Piazza d'Arme a vedere l'Avellino con Ghio, Muesan, Picciafuoco. Ripeto, sono anni e anni, però la passione è sempre lo stesso, io l'unica squadra che ho è l'Avellino, ripeto, altre squadre non sono nemmeno chi i giocatori, chi è il portiere della Juve, per farti capire. Però è così, perché ripeto, quando uno ama questa squadra, quando uno ama questa squadra... L'ho detto un poco grosso. Eh vabbè, quando uno, no, l'ho detto grosso proprio per farti capire che io guardo soltanto l'Avellino, infatti qualche volta ti rivedo, pure io scaio a casa, ma quando vedo le partite della Juve, Juve Milo mi addormento sul divano. Quindi ripeto, a me l'emozione me la dà l'Avellino, quella, diciamo, quelle emozioni particolari solo questa squadra ne riesce a darmelo.